Ciao a tutti amici youtube e benvenuti in questo nuovissimo video Me le avete chiesti in tantissimi, davvero non ne potevo quasi più Per cui ho contattato Trasto e gli ho detto mi mandi le 488 GXT Le nuove cuffie da gaming, nuove si fa per dire, sono uscite ormai da qualche mese Che hanno diversi punti di forza in realtà, le ho provate da qualche settimana E prima di tutto partiamo dal prezzo, perché costano 30€ E' un'informazione importante perché dal prezzo poi andiamo a fare tutte le valutazioni del caso 30€ sono forse tra le cuffie più economiche che io abbia mai provato Su questa cifra mi vengono in mente forse le HyperX Stinger Core Che però costano più o meno sui 40-44€, quindi 14€ in più Che sono tanti su questa fascia di prezzo E le cuffie di Amazon Basics che avevo provato tante tempo fa E che comunque sono ancora disponibili e secondo me sono sempre tra le migliori alternative su questa fascia di prezzo In particolare le 488 GXT si contraddistinguono per il fatto che sono sicuramente compatibili con PlayStation Quindi sia con la PS4 che con la PS5 Ma prima di continuare con la recensione completa per scoprire come sono fatte e come vanno Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto E attivare la campanellina delle notifiche In questo modo mi supportate e posso continuare a portarvi sempre più recensioni di prodotti sempre più interessanti Se volete poi potete seguirmi anche sul mio canale Telegram dedicato alle offerte Il link lo trovate come al solito qui sotto nella descrizione Le offerte le seleziono io personalmente e non faccio assolutamente nessun tipo di spam Allora iniziamo subito dalla confezione perché è la prima cosa che vediamo dopo che ci vengono consegnate queste cuffie Confezione assolutamente minimale, è un cartonato e all'interno troviamo solamente le cuffie Quindi non ci sono accessori, dosezioni particolari e nient'altro Da notare che le cuffie arrivano con un cavo jack aux da 3,5 mm Quando avete a che fare con un cavo con jack da 3,5 mm dovete guardare quante lineette ha In questo caso ne ha tre Quindi con questo cavo qui riuscite a utilizzare sia la cuffia che il microfono integrato all'interno della cuffia Per utilizzarle su un computer avete bisogno di uno sdoppiatore Quindi questo cavo qui lo inserite nello sdoppiatore che sdoppia appunto il segnale audio della cuffia e il segnale audio del microfono Ovviamente vi serve solamente se dovete utilizzarlo con il pc Però questo vi permette per esempio di usare le cuffie anche con il vostro cellulare Usando magari un adattatore da usb c ad aux o se avete un iphone da lightning ad aux Dove lo infilate questo cavo non dove state pensando voi ma nel controller della ps4 E da lì le cuffie iniziano a funzionare Non avete bisogno di fare nient'altro di passare da configurazioni strane Niente di niente Purtroppo però il cavo come potete vedere è abbastanza corto Stiamo parlando di circa 80-90 cm di cavo Ovviamente non è in realtà un grosso difetto perché se lo collegate al pad Il pad ce lo avete tra le mani quindi il cavo non deve essere neanche troppo lungo perché deve semplicemente coprire la distanza dalle orecchie al pad E le nostre braccia non è che misurano 3 metri Se invece volete utilizzare queste cuffie col pc Beh secondo me è un po' cortino A seconda di come avete posizionato il pc insomma dovrete aggiustarvi Cavo che è telato e su questa fascia di prezzo direi che è un bel pregio Cosa è molto grosso il telecomandino Anche in questo caso è stato fatto per essere facilmente raggiungibile quando stiamo giocando Quindi lo prendete in mano a solamente due pulsanti Quindi la ghiera per il volume e il tasto per attivare o disattivare il microfono Che si può abbassare o alzare ma non è dotato della funzione flip to mute Quindi dovete agire sempre tramite il tasto Il telecomando che è secondo me fin troppo grande in questo caso qui Perché occupa davvero tanto spazio Se magari muovete la testa in maniera frenetica Lui inizia a ballare, a dondolare un po' e potrebbe darvi un po' fastidio Le cuffie sono cuffie da 30 euro Questo l'abbiamo detto e lo sentite Sia nella costruzione che per quanto riguarda gli assemblaggi È un difetto, costano 30 euro Sappiamo a ciò a cui andiamo incontro In particolar modo come potete vedere La regolazione dell'archetto è abbastanza plasticosa È abbastanza economica Così come le plastiche e le finiture che fanno sentire anche un po' gli assemblaggi E quindi tutte le sbavature dovute alle lavorazioni Per quanto riguarda invece le imbottiture dei padiglioni e dell'archetto Devo dire che ci siamo Ripeto, da gufi di 30 euro non è che si può criticare chissà cosa Perché stiamo spendendo molto poco E già che si comportano bene e sono assemblate in maniera dignitosa È più che sufficiente Non mi piace solo la finitura lucida di questa parte qui dell'attacco dell'archetto Perché tende a sporcarsi non appena la guardate I padiglioni sono molto comodi Devo dire che sono padiglioni over ear Quindi coprono per intero tutto l'orecchio Tuttavia la pressione data dall'archetto Essendo completamente in plastica Secondo me è un po' eccessiva Se lo utilizzate per tanto tanto tempo Sentirete un po' di pressione attorno all'orecchio E soprattutto tendono un po' a scaldare Anche in questi mesi in cui non fa decisamente caldo Il microfono come detto si può alzare ed abbassare Ma soprattutto si può avvicinare o allontanare dalla bocca Non ci sono funzioni particolari Il branding è abbastanza minimale Le cuffie al tatto sembrano un po' giocattolose Però la cosa positiva è che i padiglioni sono basculanti Quindi si adattano bene alla vostra testa Ma soprattutto non ci sono scricchioli Abbiamo visto in passato come altre cuffie Magari anche più costose In realtà fossero molto più delicate Queste qui ci siamo A livello di flessibilità, di torsione, di resistenza Sono rimasto piuttosto soddisfatto Quindi sì, le plastiche al tatto non saranno miracolose Però sono almeno resistenti Quindi anche se vi dovessero cadere accidentalmente Non rischiate di danneggiarle Questo è un punto di forza decisamente molto buono Per quanto riguarda l'audio, come suonano queste cuffie? Beh, ovviamente anche in questo caso Non è che ci possiamo aspettare l'orchestra sinfonica Dentro le nostre orecchie Suonano bene Sia con i videogiochi sia con la musica Devo dire che la presenza dei bassi si sente La cosa che sorprende però di più è il volume Il volume non lo userete mai al massimo Perché vi spacca davvero i timpani E l'ho provato sia col mio computer che con il cellulare Ho avuto lo stesso effetto Quindi abbiamo davvero un volume Secondo me addirittura eccessivo Insomma non vi consiglio di utilizzarlo al massimo Mentre giocate o mentre state utilizzando le cuffie Al 50% è più che sufficiente Per quanto riguarda l'audio ovviamente pompa tantissimo i bassi Fa quasi sparire soprattutto i volumi più alti Le frequenze medie Per quanto riguarda gli alti Non sono gli alti più cristallini ovviamente Che io abbia mai ascoltato Però ci siamo Tendono un po' a gracchiare Proprio se alziamo tanto tanto il livello La pressione sonora dell'ascolto Una cosa invece che mi ha sorpreso tantissimo È il microfono Il microfono ha una registrazione davvero molto pulita Ma vi lascio una clip in modo che possiate sentirla Ecco una breve prova del microfono di queste cuffie Come potete sentire l'audio è davvero molto buono Cristallino La voce viene catturata in maniera davvero molto chiara E oltre che per le chat potrebbe essere più che sufficiente Anche per qualche piccola registrazione Per 30 euro ci sta tutto Come avete avuto modo di apprezzare il microfono ha una qualità audio Davvero che per 30 euro secondo me solo il microfono vale il prezzo delle cuffie A chi consiglio queste Trust GXT 488 Forza A chi le vuole utilizzare con console o con il cellulare anche per giocare Oppure anche con la Switch volendo Perché sono sicuramente compatibili tramite il jack aux A chi vuole un audio tutto sommato discreto A chi apprezza tanti bassi A chi sicuramente vuole spendere poco Infatti su Amazon adesso proprio questo modello In colorazione nera e blu la trovate a circa 30 euro Quindi uno dei prezzi più bassi per portarsi a casa Comunque un paio di cuffie che ci stanno Non fanno miracoli Non sono strepitose Non hanno le funzioni più avanzate LED RGB o 7.1 Però a questa cifra inutile pretendere di più Queste suonano bene Hanno il microfono Si gestiscono tranquillamente Sono resistenti Per cui cosa chiedere di più Per 30 euro ci stanno? Sì ci stanno Possiamo definire le migliori sotto i 30 euro? Beh ci sono tantissime alternative Io purtroppo non le ho provate tutte Per cui non vi saprei dire Però secondo me queste potrebbero essere Una valida alternativa appunto Per chi ha queste specifiche esigenze Per questo video è davvero tutto Il link per monitorare il prezzo più basso Lo trovate qui sotto nella descrizione E noi come al solito ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie.